A soli 61 anni, dopo lunga e travagliata malattia, un tumore al cervello, è morto già Roberto Casaleggio, cofondatore del Movimento 5 Stelle, assieme a Beppe Grillo, che per primo ha comunicato la triste notizia. Il decesso è avvenuto in un ospedale di Milano dopo l'ennesimo intervento chirurgico, giovedì funerali. Pur aspettandosela in molti e da tempo, la notizia ha colto comunque di sorpresa. Cosa cambierà nel Movimento 5 Stelle dopo la morte di Casaleggio? Allora, innanzitutto approfitto come portavoce del Movimento 5 Stelle di Cremona ad esprimere il mio cordoglio alla famiglia Casaleggio per la prematura scomparsa del signor Gianroberto. È una persona che ci ha lasciato, diciamo, un'eredità importante, ma come già ha preannunciato da Beppe Grillo durante il raduno di Imola, il Movimento 5 Stelle adesso deve viaggiare con le sue gambe. Cosa le lascia personalmente una figura come quella di Casaleggio? Diciamo che è stato innanzitutto intuitivo, ha saputo creare un movimento, non un partito, quindi ha creato qualcosa di nuovo, di alternativo rispetto a quelli che sono i classici partiti di cui ormai siamo più che stufi di avere a che fare perché ormai è una situazione stantia. Grazie.